C'è un morbido, ho messo la spenzione perché c'è che era troppo lungo. E' un clip che mi piace. Farò yoga. Mi cogliere l'alto. Come fa la foto? E lei a lavorare oggi, eh? E' un po' finito, ho finito. Sto consumando un po' di scheda, sto scaricando la memoria. Un bacio per fuori. Grazie. Grazie.